Salve a tutti. Oggi chiedo alla società civile di aiutarmi. Il 2021 è un anno importantissimo per aumentare l'ambizione ambientale. L'Italia è presidente del G20 e avremo il G20 Ambiente, clima e energia, è co-presidente della conferenza delle parti, la COP26, sui mutamenti climatici insieme al Regno Unito e quindi è un anno ricco di possibilità ambientali. Ora, proprio questa significatività dell'anno 2021 che pone l'Italia nel cuore della questione, per questo motivo io chiedo alla società civile di aiutarmi e lancio una campagna, All for Climate. All for Climate vuol dire alla società civile aiutatemi con le vostre iniziative, mettetele a disposizione del Paese Italia, penso a mostre, convegni, iniziative di sensibilizzazione, quello che voi ritenete, secondo la vostra fantasia, sensibilità, passione, di poter mettere a disposizione del Paese Italia nell'ambito di queste iniziative con particolare riguardo alla COP26, alla Pre-COP26. Io ho lasciato uno spazio aperto sul sito, lo troverete sul sito del Ministero dell'Ambiente, link di riferimento, fino al 29 gennaio dell'anno corrente perché le vostre iniziative che avete in animo e che volete organizzare nel corso dell'anno possano essere utili proprio per queste finalità, alzare l'ambizione, cioè vincere la sfida che l'Italia vuole portare avanti con tutta se stessa. Allora io chiedo alla società civile di mettersi a fianco del Ministero dell'Ambiente, di provarci insieme fino in fondo. Il Ministero dell'Ambiente poi selezionerà tutte le iniziative che arriveranno, ma è importante partecipare, è importante che tutti noi diamo una mano perché questo è un anno, il 2021 è un anno fondamentale da questo punto di vista, la sfida va vinta adesso, non va vinta chissà quando, va vinta adesso e quindi io chiedo a tutti quanti di partecipare alla campagna All4Climate. Diamoci una mano. grazie a tutti.